Grave fatto di sangue questa mattina a chiesa in Valmalenco, una cinquantenne del posto è stata ferita a colpi di coltello dal marito. Lei è grave, ricoverata al Niguarda, lui è in carcere per tentato omicidio. Siglato un patto fra Polo di formazione di Sondrio e Dena, il plente emanazione delle Acli per il rilancio e la qualificazione dei corsi professionali in provincia, un'offerta sempre più ampia per attrarre l'interesse degli studenti. Magistrale quanto brillante interpretazione del Valtellina Casera da parte dello chef bergamasco Andrea Mainardi, Adelebio, Chiuro e Bormio ha dato il meglio di sé incantando i presenti. Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. C'è la cronaca in apertura, un grave fatto di sangue accaduto questa mattina nella centrale Via Bernina a chiesa in Valmalenco. Vittima una donna di 50 anni, ferita gravemente dal marito, 53. Subito soccorsa e ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano, il suo aggressore in carcere. Vediamo. Pessimo risveglio quello di oggi per la comunità di chiesa in Valmalenco, sconvolta da quanto accaduto al civico 13 di Via Bernina in pieno centro. Erano circa le 9 quando è scattato l'allarme. Ho visto una persona a terra, ho sentito due ambulanze, vigili del fuoco e i carbinieri. E' una persona a terra, mi sono fermata 5 minuti e poi è arrivata altra gente e ho sentito che il marito ha cotellato la moglie perché si sono separati. Un uomo, Claudio Pedrotti, 53 anni del posto, nel corso di un alterco, ha colpito ripetutamente con un coltello e un seghetto da giardinaggio la moglie, Barbara Zanella, 50 anni, pure di chiesa. La rincorsa sulle scale all'esterno dell'appartamento che condividevano al piano rialzato e la ferita gravemente alla schiena. Poi raggiunto dal cognato che abita nello stesso stabile e che ha tentato di fermarlo, disarmandolo, l'ha inseguito e infierendo anche contro di lui senza riuscire fortunatamente a raggiungerlo. Fino a barricarsi all'interno di una stanza dell'abitazione e tentare il suicidio, saturando l'ambiente con il gas di una stufa. A scongiurare ulteriori conseguenze l'intervento dei carabinieri del posto e di Sondrio e Tirano, coordinati dal sostituto procuratore Stefano Latorre, che hanno forzato la porta della stanza e immobilizzato l'uomo, subito posto agli arresti per tentato omicidio, mentre i vigili del fuoco hanno bonificato e areato i locali e il personale areo si è occupato della vittima, tradotta in ospedale nel capoluogo in codice rosso e sottoposta alle cure del caso. Particolarmente delicata la sua situazione. In ospedale si trova anche l'uomo, condotto via i carabinieri, perché colto da malore e ripiantonato. Ed un senso di impotenza unito a sgomento si è impossessato della comunità di chiesa, attonita di fronte ad un simile accadimento. Vediamo le prime reazioni. Una situazione limite, quella accorsa questa mattina e che ha gettato chiesa nello sconforto. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa simile, anche se da quest'estate lo stato di disagio in cui versava l'uomo era notevolmente peggiorato. Forse il timore di perdere la compagna e il fatto di non avere una vera e propria occupazione lo avevano destabilizzato. Io avevo paura, io avevo paura di questa persona qua, perché la vedevi che non stava bene, la vedevi che non era poi dimagrita un casino. E io dopo qualche volta si fermava a parlare, però io avevo paura e prendevo sempre con me lo spray al peperoncino, perché ho detto se mi tocca. Io sono da sola col cane alle 11 di sera, però io ho sempre avuto paura. Da quest'estate in poi, prima no, ma da quest'estate in poi non proprio si è cambiato completamente. La coppia aveva gestito fino a poco tempo fa il negozio di casalinghi della famiglia Zanella, attività che poi aveva deciso di chiudere. Barbara aveva optato per un altro impegno lavorativo presso Forottela a Sondrio, continuando a coltivare la sua passione per il canto, come corista del gruppo Armonia in Voce del Posto, mentre il marito era rimasto disoccupato. Non ho davvero parole, dice il sindaco Renata Petrella, sono sconvolta. L'attenzione è tutta per la vittima perché superi questa terribile crisi. Pensare che solo sabato scorso aveva voluto affrontare il tema della violenza contro le donne in una rappresentazione tenutasi in paese. Speriamo che la moglie si salvi, speriamo, perché lui si vedeva proprio che non era una persona... Infatti l'altro giorno mi è venuto in mente e ho detto ma non è meglio avvisare qualcuno. Però dopo li ho visti assieme, cinque giorni fa li ho visti che camminavano sulla strada alle otto di sera, stavano andando verso il Miramonti, tutti e due assieme, ho detto dai che forse si sta curando. Gli aggiornamenti sono giunti nel tardo pomeriggio rispetto alle condizioni di Barbara Zanella, da prima portata in sala operatori a Sondrio per essere sottoposta a intervento chirurgico. Constatata la particolare complessità della situazione, si è optato per il trasferimento all'ospedale Niguarda di Milano, dove è attentamente monitorata. Claudio Pedrotti invece, il suo aggressore, nel tardo pomeriggio, una volta compiuti gli accertamenti del caso presso l'ospedale Cittadino, è appurato che la detenzione carceraria era compatibile col suo stato di salute, è stato tradotto nelle carceri del capoluogo, per lui l'accusa, ricordiamole, di tentato omicidio. Chiudiamo la pagina di cronaca. Un patto per la formazione, utile ad implementare l'offerta in favore degli studenti interessati ai percorsi professionalizzanti. È stato siglato questa mattina presso il Polo di Formazione Professionale di Sondrio, fra quest'ultimo è Denaip Lombardia, l'ente di formazione delle ACLI. Ce ne parla Simone Belletti. Matrimonio siglato tra Polo di Formazione Professionale Valtellina e Enaip Lombardia, ente di formazione italiano espressione delle ACLI. Un'intesa da tempo annunciata che ha trovato il suo lieto fine oggi con la fondazione di Valtellina Formazione, ufficializzata la collaborazione presso la sede del Polo di Formazione di Sondrio. Nel ruolo di presidente Erminio Tognini. Nel CDA saranno presenti insieme a lui Valeria Zamboni e Giovanni Colombo. Le finalità perseguite dal nuovo organismo spaziano in diversi ambiti. Quella principale è di fornire proposte formative ad ampio raggio ai ragazzi del nostro territorio. Gli obiettivi sono quelli di dare opportunità ai nostri ragazzi che escono da questi corsi di formazione professionale un'alternativa a tutto quello che potrebbe essere il mondo del lavoro. La fondazione opera contro il bullismo, opera contro la dispersione scolastica, fa formazione professionale qualificata e gestisce praticamente il settore vallessana della regione Lombardia. Ci troviamo in presenza dell'unica esperienza presente in tutta la regione Lombardia di questo tipo dove un ente sostanzialmente pubblico, un'azienda speciale come PFP e di una realtà privata come la fondazione Lombardia uniscono le forze costituendo anche formalmente uno strumento come Valtellina Formazione per cercare di dare delle risposte e rendere più efficiente il sistema della formazione nel suo complesso. Uno dei problemi sollevati dal neopresidente è la dispersione scolastica che va contrastata efficacemente. La dispersione scolastica cosa crea? Crea dei ragazzi che non sono né carne né pesce nel senso che dovranno fare, se hanno voglia, solo lavori umili e poi anche dal punto di vista culturale non crescono perché leggono poco e sono alla mercè poi di tutte le mode, anche per esempio il bullismo e tutte queste cose qua che sono deleterie. Crescere insieme, uno dei principi su cui nasce Valtellina Formazione un territorio al nostro bisognoso di sinergia e di lavoro di rete. Il convitto, l'internazionalizzazione dei progetti Erasmus, i catering e il rifugio ETA vanno tutti in capo alla fondazione, quindi avrà una sua contabilità, del proprio personale e alcune attività e quindi mi libera un po' di attività prettamente didattiche. Il calo demografico previsto produrrà una maggiore concorrenza tra istituti grazie all'Unione è possibile vincere questa delicata sfida trovando risorse umane, professionali e internazionali innovative. In prospettiva avremmo, grazie all'esperienza e al know-how di ENAEP intenzione di valorizzare anche una parte formativa superiore corsi ITS, IFTS sul turismo soprattutto in previsione di Livigno del Mondiale del 2026 di alcune nuove professioni nel campo sia dell'artigianato che dell'industria che dobbiamo essere in grado di anticipare cosa sta avvenendo e dare una possibilità di formazione ai nostri ragazzi. Storie e mondo della scuola si fondano nel Doc Educational dal titolo Italia 70, 10 anni di piombo un progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio in collaborazione con l'Istituto Bresciano di Istruzione Superiore o Livelli Putelli di Darfo Buario Terme. La trasmissione è prevista per domani, 12 dicembre, alle 16.50 sull'A7 in concomitanza con l'anniversario della strage di Piazza Fontana ma alcuni spezzoni andranno in onda anche questa sera alle 21.15 durante il programma televisivo Atlantide. L'iniziativa vede anche la partecipazione di Rai Teche e Istituto Luce Cine Città con interviste a testimoni storici e con pagine audiovisive dell'epoca. Sono molto felice che l'impegno messo in campo dall'Ufficio Scolastico Territoriale si sia concretizzato in un traguardo così importante ha sottolineato il dirigente Fabio Molinari. Andrea Mainardi ha fatto tris prima a Delebio, poi a Chiuro, quindi a Bormio sabato scorso per consacrare Re Valtellina, casera, formaggio fra i formaggi. Riuscita la campagna promozionale del Consorzio di Tutela varata in tandem col noto chef bergamasco. Vediamo. Tre tappe, Delebio, Chiuro e Bormio, hanno segnato il casera tour di Andrea Mainardi, giovane e brillante chef bergamasco scelto dal Consorzio Valtellina Casera e Bitto per declinare in chiave moderna la squisitezza del nostro prodotto d'eccellenza. Reduce dalla casa del grande fratello VIP, Mainardi ha prodato sabato in Valtellina percorrendola da ovest a est con un denominatore comune, fare il miglior uso in cucina dei nostri formaggi a denominazione, cosa che è puntualmente avvenuta tanto alla Latteria Sociale Valtellina di Delebio, dove è giunto in tarda mattinata, quanto alla Latteria di Chiuro, dove ha fatto tappa alle 15, quanto in serata alle corti di Bormio. Protagonista del cheese cooking è il Valtellina Casera, che a Chiuro è stato proposto in primis sotto forma di merenda del casaro. Oggi qui alla Latteria di Chiuro ho preparato due piatti, uno molto semplice, una merenda, una merenda dello sciatore l'abbiamo chiamata, un pane tramezzino imbevuto nell'uovo sbattuto e poi farcito con prosciutto cotto al forno e Valtellina Casera Dop giovane, chiuso, spadellato in una padellante aderente con del burro, aglio e salvia, un prodotto straordinario, eccezionale anche per i ragazzini. E poi il vero segreto per mantecare è un risotto mantecato. Adesso non posso raccontarvi tutto perché poi saranno le immagini che parleranno. E ovviamente il tutto farcito da mezzo chilo di Valtellina Casera Dop, che ha formato una crema e un filo straordinario. A testimoniare la sacralità del momento culinario, le immagini che ritraggono Mainardi al top, come sempre, nella sua divisa nera da cuoco postmoderno, mentre microfono all'orecchio descrive le proprie preparazioni ad un pubblico attento e divertito. E sfoderando la gestualità che lo contraddistingue, lo tiene incollato ai fuochi, alle teglie, ai tegami, come fossero alambicchi, da cui prima o poi esce la formula magica. Questa volta rigorosamente valtelinese, terra di cui assicura di conoscere le particolarità culinarie. Ho già assaggiato ovviamente tutti i prodotti delle vostre valli, dagli chat, al pizzocchio e quant'altro. Ovviamente il pizzocchio ha un fascino particolare per me, perché è un piatto che preparava anche la mia mamma quando ero piccolino. Quindi i piatti che ti ricordano il passato, che ti ricordano l'infanzia, che ti ricordano la famiglia della domenica, sono sempre le cose che ti lasciano il segno. Quindi il mio piatto ovviamente è il pizzocchio, la Valtellina, ovviamente con il Valtellina Casera Dop. Un tour quello con Mainardi, partito alla grande, parte integrante dell'iniziativa Sentiti al DOP, nuova campagna promozionale del Consorzio di tutela Valtellina Casera e Bitto, che va a completare le due precedenti, del 2017-2018. Lo spirito è proprio quello di aumentare la conoscenza di questi prodotti e farli conoscere in primis ai nostri compaesani, per creare un senso anche di appartenenza al territorio, conoscendo questi prodotti possiamo apprezzarli di più e questo è proprio lo spirito di questo tour. Anche per valorizzare le produzioni locali e quindi tutta la filiera di questi formaggi, che coinvolge non solo i caseifici, ma anche i numerosi allevatori presenti in provincia, fino agli stagionatori, perché questi formaggi vengono prodotti e stagionati nel territorio valtellinese. Ricordiamo che il mercato principale per i due formaggi DOP è il Nord Italia, con una quota pari al 96% del venduto totale, oltre l'80% nei supermercati. E siamo alla sanità. Era stata annunciata l'assenza dei sindaci dell'Alta Valtellina al tavolo sulla sanità convocata oggi in provincia dal presidente Elio Moretti. E così è stato. Il sindaco di Bormio, Roberto Volpato, non ha partecipato all'incontro in cui erano presenti, invece tutti gli altri sindaci dei capoluoghi di mandamento, i rappresentanti sindacali e i direttori generali della TS della Montagna e della SST Valtellina al Tolario. L'auspicio formulato è quello di ritrovare anche il rappresentante dell'Alta Valle al tavolo e per questo il presidente lo reinviterà a partecipare. Per il resto i lavori sono proseguiti come da programma e il tavolo è stato aggiornato a metà gennaio del prossimo anno. Come ogni anno anche a Sondrio si è rinnovata la cerimonia di premiazione delle coppie più longeve. A voler ricordare che affrontare le difficoltà del quotidiano è possibile e lo è stato per parecchi coniugi giunti fino a 60 anni di vita insieme. Vediamo il servizio. Un traguardo che merita di essere messo in evidenza dalle istituzioni. Festeggiate ieri a Sondrio all'Unione Artigiani le coppie longeve che hanno raggiunto il cinquantesimo e il sessantesimo anniversario di matrimonio. Ad ogni coppia il sindaco Marco Scaramellini ha consegnato un diploma in segno di affetto e simpatia da parte di tutta la cittadinanza. Una cerimonia è diventata una tradizione consolidata, particolarmente sentita. In totale nel capoluogo quest'anno ben 75 nozze d'oro e 28 di diamante. A ritirare il premio sono venuti circa la metà. È stata una serata emozionante, anche commovente devo dire. Ho proprio notato che è un appuntamento sentito, sentito dalle famiglie, dalle coppie. Abbiamo avuto anche questa sorpresa di una persona che ci ha letto una poesia che ha composto lui e veramente è stata una serata bellissima. È una manifestazione ormai tradizionale, molti anni che viene proposta e la riteniamo come manifestazione molto importante perché è una cosa simbolica di vicinanza nei confronti della popolazione diciamo già un po' avanti con gli anni che però sono testimoni di come la famiglia, la solidarietà tra coniugi sia un elemento importante per la crescita morale di tutta la comunità. Premiate 37 anime gemelle che hanno festeggiato quest'anno le nozze d'oro e 6 che sono arrivate ai 60 anni di matrimonio. Presenti in occasione delle nozze di diamante Bruna Morelli con Omo Bono Bonomi Silvia Spinelli con Cesare Cristini Carla Tonini con Egidio della Cagnoletta Giuseppina Martina con Cesare Moizi Marcella Zopatti con Andrea Scilironi Bruna Del Vincenzo con Carlo Zopatti Tangibile l'emozione sul volto delle coppie che hanno ritirato l'omaggio davanti a una sala gremita. Davide Rastelli al momento del ritiro del premio ha recitato una poesia dialettale dedicata alla sua compagna di vita Alessandra Fumagalli. La poesia la tratta di temi di una volta che era proprio mica male, anzi disegresi vabbè mi sarei abituato però una bella roba insomma la tradizione, la cultura che bisogna portare avanti adesso mi è un po' desmentegato di queste robe invece bisogna portare avanti. L'emozione è stata di tirare questo premio? E' emozionante, speriamo di riceverne ancora Ed ora lo sport si chiude in bellezza la due giorni di gare di Coppa Europa di sci alpino a Santa Caterina a Val Furva la manifestazione organizzata da Cancro Primo Aiuto Onlus quest'anno con il patrocino di Regione Lombardia è stata confermata dalla Federazione Internazionale Sci per altri tre anni nella località dell'Alta Valtellina senza dimenticare che la competizione europea in Valtellina permette di unire sport e solidarietà e divulgare le tante attività promosse dalla Ollus a favore dei malati di tumore appuntamento fissato per la prima metà di dicembre 2020 questa volta con una discesa libera ed un super gigante valevole appunto per la Coppa Europa Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale vi do appuntamento alle prossime edizioni vi ricordo che ci potete rivedere sul sito www.radiotsn.tv e sulle pagine social Facebook e Youtube della nostra emittente grazie per l'attenzione buonasera al quadrifoglio a Sondrio il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti camiceria maglieria calzature e accessori uomo delle migliori marche al quadrifoglio l'abbigliamento maschile di qualità al prezzo giusto ci trovi a Sondrio in via Caimi 72 telefono 0342 51 49 71 per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in via Mazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti New Probabile Donna da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna abbigliamento borse accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15 immaginari l'idea che non avevi in testa a Sondrio in via Bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35